noi siamo la mano dei profeti e tu sei la loro spada vii rapido e silenzioso e sradicheremo questa eresia senza incidenti e tornate ragazzi sul canale gaming now continuiamo la master chief collection halo 2 dunque ci troviamo nuovamente su halo ormai completamente distrutto per la prima volta non impersoniamo master chief ma un covenant l'arbiter un'elite che cerca di redimersi dal fallimento prima lancia in posizione dobbiamo fermare un gruppo di covenant ribelli dunque per la prima volta impersoniamo un nemico quindi ok dunque essendo un elite ovviamente abbiamo la spada laser e ovviamente te cazzo scusate ok infiltra di una struttura dei precursori e sradica l'eresia ok i profeti ci hanno inviato qui per uccidere il leader dei motivare la mimetizzazione mostratevi soltanto quando l'arbiter avrà assalito il nemico ecco una cosa che non possiamo fare con master chief dovresti fare al pertanto arbiter attenzione però la tua corazza non è nuova come le nostre la mimetizzazione non durerà a lungo ecco ecco ok 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 Eccone un altro! 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 Questi covenanti ribelli sono tosti eh! Eccone un altro! Eccone un altro! Eccone un altro! Oh, oh, oh! 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 Oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! E' l'hangare pulito Devo aprire il cancello 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 non combattere ancora Banshee la sua verità non deve essere celata caccia ok Banshee non vedo come erano i comandi Banshee 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 Mi persegirei! Mia comidia si farà! Mi silenzio! Quindi nella versione rimasterizzata è cambiata un po' la musica, è stata modificata anche un po' il parto sonoro del gioco. E' stato modificato anche un po' il parto sonoro del gioco. Attenzione a questi grunt malefici. Devo dire che i grunt ribelli sono più tosti, più aggressivi. E' stato modificato anche un po' la musica. E' stato modificato anche un po' la musica. Aspetta che devo... Nessun segno del leader degli eretico del suo banche. Continuiamo a cercare. Cambiamo Banshee. Altre Banshee. Banshee. Grazie a tutti. 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 Oh... 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 L'oracolo... Uccidi il leader degli eretic... I profeti saranno soddisfatti... Oh... 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 Video came... Leo... Cosa succede? Questo fettore Io l'ho già sentito Yogurtnaut Ora noi salvi Sì Flood Ecco là Il ritorno dei Flood Ora noi morti Ovviamente I cove nazi belli Hanno liberato i fuori Silenzio Presto, prima che ritorni Proviamo il leader degli ereti che uccidiamo Cosa è successo qui? Io ho una cattiva sensazione Tu hai sempre cattiva sensazione Tu hai cattiva sensazione già a colazione Chiudete la bocca O me la chiudo io Guarda, eretic Ci devo chi avrebbero inviato i profeti Un arbiter Sono quasi rosingato Sta usando un olodrome Deve essere vicino Vieni fuori Così ti uccideremo Aspetta il tuo turno Vieni fuori Silenzio I Flood sono sui Hanno liberato i Flood Vieni fuori Oh, bravissima! Ok, vamo! Oh, bravissima! Oh, bravissima! Fum, bravissima! Oh, bravissima! Buongiorno! Ok, friend! Non lo so, non lo so, non lo so. Grazie a tutti. Stiamo scendendo più giù. Ascensore su ascensore. Ascensore su ascensore. Ascensore su ascensore. Che vuoi da me? È morto? Non è normale, possiamo usare le armi delle sentinelle. Ascensore su ascensore. Ascensore su ascensore. Ascensore su ascensore. I don't know Lickature 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 a uscire allo scoperto ok e i nostri signori guidino la tua mano ricordaremo il tuo sacrificio si i 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 potremmo fare più rumore io credo di sì ok ragazzi siamo atterrati sul nuovo halo halo.2 va bene il video si conclude qui commentate mettete un mi piace e ci vediamo al prossimo gameplay